salve a tutti ragazzi bentornati su the science lab oggi ci immergeremo nel mondo della famosissima serie tv breaking bad con protagonista walter white infatti realizzeremo insieme dei cristalli utilizzando del cloruro di sodio ovvero del semplice sale da cucina andiamo a vedere come si fa per iniziare l'esperimento disegniamo un rettangolo 15 per 15 su un cartoncino colorato ora aggiungiamo del sale finché non si ne scioglierà più all'interno di acqua calda dopodiché aspettiamo tre settimane al termine della reazione si formeranno dei cristalli sul cartoncino che saranno visibili come si può vedere si sono formati dei cristalli vediamo qualche curiosità la struttura geometrica del cristallo è permessa da un'unità elementare di atomi ovvero la cella elementare che forma una struttura ordinata nota come reticolo cristallina la cristallografia raggi è una tecnica che sfrutta la deposizione di immagine e raggi x tecnica che permise a walter white il protagonista di breaking bad di vincere il premio nobel la struttura cristallina è possibile grazie alla formazione di legami ionici tra gli ioni del reticolo il legame ionico è un legame chimico forte di natura elettrostatico anche per oggi ragazzi tutto mi raccomando ricordiamo di condividere il video con i vostri amici di mettere mi piace di iscrivervi al nostro canale se ancora non avete fatto per rimanere sempre aggiornati di seguirci sui nostri social su instagram su facebook e di andare a leggere l'articolo correlato alla tematica di oggi ciao a tutti i ragazzi a tutti i ragazzi